amici d'inter fan tv cuori forti nerazzurri campioni d'italia bentornati da michele borrelli alle nostre video news non aggiornata di campionato inter juventus il derby d'italia la più grande rivalità in italia tra inter e juventus che si consumerà ancora una volta a san siro la non aggiornata che si chiuderà nella serata dopo roma napoli ha già vinto invece il milan una partita rocambolesca a dire poco 0 1 bologna in 10 0 2 sembrava finita nel secondo tempo in pochi minuti 1 a 2 2 a 2 bologna in 9 e poi la grande resistenza fino a 6 minuti alla fine il gol di benna serbo ibrahimovic 4 a 2 la seconda espulsione quella di soriano nel secondo tempo lo diciamo subito è netta la prima quella di sumarò si può un po più discutere perché la chiara occasione da gol prevede anche il controllo del pallone il giocatore del milan che era sì a ridosso dell'aria di rigore quindi vicinissimo alla porta aveva ricevuto questo lancio dalle da dietro quindi il pallone era andato in avanti non era proprio in controllo ecco quindi ci poteva stare anche il cartellino giallo e quindi il bologna che erano già un paio di partite che mi hailevic si lamentava in questo caso aveva rimontato incredibilmente ripeto dopo il gol di layout deviazione di medello l'espulsione 2 a 0 calabria arriva l'autogol di ibrahimovic su calcio d'angolo all'inizio del secondo tempo del bologna dopo tre minuti addirittura barro su assist di soriano la rimette in piedi clamorosamente lo stesso soriano abbiamo detto espulsione bologna in 9 poi il milan che non riesce tanto a creare occasioni a parte una di una grande parata di skorupski che l'aveva fatta grossa sul secondo gol di calabria uscendo male poi si era rifatto con questa parata addirittura il bologna in contropiede in 9 ha provato a fare il terzo gol in una occasione per arnautovic poi un colpo di testa anche sul calcio d'angolo ma a 6 minuti alla fine arriva il gol di benna sera e poi ibrahimovic la chiude 4 a 2 c'è da dire che però il milan ha tantissime assenze l'ha vinta con il verona con l'autorete di gunter la rimonta anche lì stavolta soffrendo questo per dire che c'è lo spirito di gruppo c'è la squadra che è molto compatta e molto squadra oggi si è un po addormentata all'inizio del secondo tempo forse col doppio vantaggio in superiorità numerica aveva pensato di averla già vinta ma il milan competitivo per lo scudetto passa attraverso il recupero dei giocatori che mancano allora ci sono tantissimi infortuni anche adesso castiglieco muscolare c'è da distinguere che si aveva la febbre braim diaz hernandez hernandez de hernandez hanno il covid quindi non sono infortuni muscolari saranno recuperati ibra torna e tornato dopo tanto tempo non poteva essere al cento per cento ma a modo suo insomma è stato protagonista autogol gol nel finale assist non aveva si vedeva ancora quella brillantezza il milan deve recuperare questi giocatori megnano tornerà nel girone di ritorno ma hernandez che si e braim diaz li deve recuperare prima ovviamente c'è il derby c'è il derby il 7 di novembre alla fine di questo blocco di partite c'è anche quattro giorni prima del derby l'inter va in casa dello sheriff tiraspol il milan giocherà in casa col porto perché importante anche milan porto perché se il milan non vince col porto va verso un quarto posto un eliminazione da tutte le coppe come l'inter l'anno scorso anche dall'europa league in quel caso ecco potrebbe anche assorbire meglio questi impegni ravvicinati avere magari meno infortuni nel girone di ritorno e essere una candidata credibile per il campionato ad oggi diciamo queste sono partite che fieno in cascina sono anche punti che dicono che magari e può essere l'anno l'anno buono perché le cose ti devono anche andare bene però ripeto poi se non hai la qualità che oggi ha per esempio il napoli ma anche l'inter stessa che oggi recupera sensi recupera vidal sta recuperando giocatori mancherà solo correa che risente ancora di un problemino muscolare quindi sarà disponibile per la trasferta di empoli mercoledì quindi ripeto napoli milan candidate per lo scudetto il milan soprattutto se recupera tutti i suoi giocatori principali questo milano c'è questo milano con crunic trequartista con baloturè terzino sinistro con tatarusano portiere con ibra 50 per cento no però li può recuperare i giocatori quindi il milan entra di diritto anche per questo inizio travolgente come il napoli nella corsa scudetto vediamo se intero juventus possono partecipare a questa a questa corsa e molto lo dirà molte indicazioni darà la partita tra inter juventus alcuni continuano a dire che chi vince lotta per lo scudetto se vince la juve e la juve ritenuta in corsa per lo scudetto dopo aver battuto l'inter l'inter avrebbe gli stessi punti sarebbe in corsa pure l'inter comunque questa è un po una questione molto filosofica si vuole girare un po a proprio favore allegri che dice che l'inter è favorita spalletti dice mi fa piacere perché lo stimo spalletti inzaghi dice mi fa piacere perché lo stimo molto favorita così come sono favoriti loro il milan il napoli la roma la lazio le mette insomma un po tutte che cosa dicono le notizie quindi della vigilia abbiamo detto di correa che non è convocato tutti gli altri ci sono resta il ballottaggio vidal cialanoglu con vesino sorpresa terzo incomodo sensi che può entrare soprattutto nel secondo tempo e io credo che stiamo veramente in ballottaggio vero mentre cialanoglu e vidal con indicazioni positive la bilancia che pende da una parte su alcune cose positive nel caso in cui gioca cialanoglu su altre se gioca vidal cialanoglu palle inattive l'assist la voglia di rivalsa che non perché non gioca da un po il grande palcoscenico su cui lui ancora deve conquistarsi la fiducia di tutti vidal il gol che ha già fatto con la juve l'anno scorso la grinta forse l'approccio un po più sicuro se se gioca appunto il cileno il cileno per il resto barella brozovic con darmian perisic esterni geco lautaro davanti sanchez che può essere utile nel secondo tempo così come dunfris così come i centrocampisti che non partono dall'inizio dietro la sdb screen devra i bastoni con andanovic in porta la juventus non ci sono diversi convocati rabbio che è stato negativi che è negativizzato dal covid ma non gioca da tanto quindi non ci sarà così come non ci sarà kin o ken visto che anche lui la pronuncia un po dice kin in inghilterra e ken quando viene in italia quindi scegliete voi torna di bala tra i convocati anche caio george c'è il ballottaggio dell'hit chiellini quindi dovrebbe essere difesa 3 allegri ha detto dell'hit può giocare centrodestra ma ancora non è pronto per giocare una difesa 3 in futuro sì quindi danilo bonucci dell'hit o chiellini oppure dell'hit chiellini tutti e due senza bonucci ma ballottaggio dovrebbe essere dell'hit chiellini a destra quadrato a sinistra alexandro anche qui due centrocampisti più certi locatelli con bentancurre il terzo se lo giocano in tre artur mckenny il favorito bernardeschi come ha detto artur a centrocampo si giocherà molto nella partita abbiamo studiato bene l'inter cercheremo di essere intensi aggressivi di non farli ragionare sanno che lì l'inter sulla carta è superiore ma bisogna tradurlo in campo la superiorità a centrocampo davanti non c'è kim ken quindi c'è morata di balla dalla panchina quindi chiesa morata chiesa coppia d'attacco e questa è la sfida della vigilia ripeto allegri ha cercato di dare un po di più di pressione all'inter dicendo addirittura che non solo la favorita del campionato ma anche che juve roma era decisiva di più di inter juventus e che il milan poteva ammazzare la juventus alla quarta giornata vincendo mentre stavolta non si decide io credo che se il napoli vince e la juve perde 13 punti col milan anche che andrebbe a più 11 non sono facilmente assolutamente facilmente recuperabili prima di vedere anche i giornali vediamo anche un po cos'è successo in questo turno di campionato anche stranieri campionati stranieri considerando che domenica ci sono barcellona real madrid marsiglia paris angermen manchester united liverpool inter juventus quindi tutte le più grandi rivalità marsiglia paris angermen in francia inter juventus in italia manchester united liverpool in in inghilterra ovviamente il classico barcellona real madrid vedremo sui giornali spagnoli come i giovani siano in vetrina in questo nuovo classico senza messi sergio ramos eccetera celsi 7 a 0 col norwich anche se lucacque fermo ai box 7 gol del celsi con il norwich 4 a 1 il city che tiene quindi il passo pareggia il newcastle della nuova proprietà 1 a 1 col cristal palace in spagna si attende quindi il super il super la super sfida barcellona real madrid intanto il viglia real perde 2 a 1 con l'atletic bilbao in serie a la salernitana pochi minuti 3 a 0 per l'empoli poi 4 a 0 lo scavetto di pinamonti che aveva già segnato all'inizio un bel gol in diagonale di sinistro doppietta quindi di andrea pinamonti forza pina continua a dimostrare e poi magari può tornare all'inter nel secondo tempo altra partita la salernitana la riapre in 10 minuti 1 a 4 2 a 4 ma poi non riesce a riaprirla fino al terzo gol quindi 2 a 4 vince l'empoli colantuono alla prima con la salernitana sassuolo venezia 3 a 1 al gol di ochereche come sempre bei gol ochereche risponde berardi poi autorete di harry e frattesi 3 a 1 per il sassuolo detto di bologna milan in serata questa partita incredibile con mille emozioni però per il bologna sarebbe stato veramente un miracolo portare a casa anche se era arrivato a sei minuti dalla fine sul 2 a 2 il borussia dortmund 3 a 1 in casa dell'arminia bilfield il bayern monaco 4 a 0 con l'offenheim risale l'ipsia 4 a 1 e questo è un po' anche la bundesliga come titolano i giornali ci sarebbe da dire anche murigno spalletti scaterati in conferenza spalletti che dice su totti anzi che prima di totti speriamo dice di morì siccome il film di totti è stato speravo di morire prima lui dice farò anch'io una serie su totti si chiamerà speriamo di morì tutti dopo e quindi spalletti un po' questa ossessione che lo perseguita no la roma totti lui dice che sinceramente legato alla roma non saranno mai dei nemici ovviamente adesso al 100 per cento per il napoli e che gli dispiacerebbe ricevere i fischi dell'olimpico roma napoli in serata mentre murigno vedremo anche dalle prime pagine dei giornali dice che hanno lasciato tanta m ai friedkin una squadra un po che deve essere messa a posto ma si prende tutte le responsabilità del 6 a 1 meglio perdere una volta 6 a 1 che 6 volte 1 a 0 e adesso crede insomma nel lavoro della squadra c'è anche questo aumento di capitale entro il 2022 che va a aumentare da 200 a 400 cd 210 a 460 quindi la voglia dei friedkin di risalire risalire la china di una rosa che al momento non soddisfa il mu fuori la verità il titolo della gazzetta sportiva ecco qua per quanto riguarda inter e juventus e poi il milan con testa pazza fuori la verità nerazzurri per dare il colpo del cappa o ai rivali bianconeri per l'aggancio san siro come i bei tempi quasi 57 mila spettatori incasso di 5 milioni anche allegri ha sottolineato come questa cosa dei quasi 60 mila sarà un ritorno alle belle serate di grandi partite con l'uomo a terra d'orin poi giochiamo sempre ha detto in zaghi e ha detto abbiamo parlato con la squadra abbiamo preso questa decisione sono loro i favoriti per lo scudetto facciamo i killer ha detto allegri devono essere più precisi nel nel giropalla e nell'essere anche qualitativi ecco spalletti prova mu all'olimpico cerca la nona di fila sulla sua strada c'è il giose furioso e per quanto riguarda invece zlatan bologna è 9 pioli soffre ma va in vetta milan testa pazza va avanti 2 a 0 la squadra di mi alevic pareggia ma fa i conti con due spulsi servono i gol di benna sera e ibra per il 4 a 2 che vale il sorpasso sul napoli in campo oggi il diavolo è il vizio di complicarsi la vita come era già successo con il verona poi un nome che pesa sarri convoca un mussolini il duce era il bisnonno pensate un po e poi bartolini storico oro anno azzurro nella ginnastica una medaglia mai vista e si racconta anche un po il medagliato della ginnastica corriere dello sport ecco anche qui ginnastica mondiale bartolini fa la storia ora nel corpo libero ma nel calcio la doppia finale roma napoli inter juve il milan vola in testa murigno non sono uno stronzo e spalletti non fischiatemi la provocazione di inzaghi avversario a terra andiamo avanti ecco quindi su murigno che dice anche che non è che non capisce che la proprietà ha investito ma stava anzi poi difende addirittura anche addirittura insomma avendo detto che la rosa non è completa ma dice capisco poi se mi vorranno fare un regalo a gennaio d'estate o dei regali va bene tra i giallorossi torna zaniolo giose carica scarica i bocciati di bodo la frecciata di luciano a totti allegri pronta la carta di bala e dice loro favoriti per lo scudetto luciano non sa fingere scrive gian carlo totto quindi è sincero i fischi non li merita e simone il torto che brucia massimiliano gallo che dice non portate inzaghi addirittura nelle scuole calcio almeno finché non gli sarà sbollita la rabbia per quel secondo gol con la lazio pioli spegne il sogno del bologna in nove che sassuolo 3-1 al venezia colantuono ne prende quattro lazio che con questa notizia che fa un po di scalpore perché per il cognome di questo ragazzo sarri convoca il pronipote di mussolini a 18 anni poi misano festival italiano al valedei il fratello luca in prima fila e c'è bagnaia in pole in pole giornata anche di grande sport la formula 1 motociclismo insomma chi più ne ha più ne metta anche con sinner in finale ad anversa viviani bronzo mondiale misano altra polbagnaia marini terzo nel valedei e iuric con i tifosi insieme per convincere belotti che vorrebbe andare in una grande vedremo se alla fine andrà a parametro zero già gennaio partirà o se a sorpresa firmerà col torino ma ci credo meno spareggio d'italia lo definisce tutto sport spareggio d'italia e poi nella storia in alto si riferisce a bartolini d'oro nel corpo libero ai mondiali di ginnastica artistica la prima volta per l'italia poi altri tre azzurri sul podio da amato secondo nel volteggio e l'odadio argento e maresca bronzo agli anelli benna seribra sollievo milan dallo 0 2 con sumarò espulso al 2 a 2 poi il rosso anche a soriano nel finale i gol che valgono il privato che fatica col bologna in nove roma napoli muo al veleno sullo spareggio d'italia allegri e inzaghi ecco qua c'è la lettura che io anche potete recuperare la puntata di obiettivo inter con i nostri ospiti per la vigilia di interi juventus ne abbiamo parlato a lungo in tutti gli aspetti tattici anche se vogliamo psicologici la grande sfida quello che io contesto ecco per esempio tutto sport scrive stasera inter juve sfida fondamentale per scegliere la squadra che resterà in sci a napoli e milan ecco la matematica diventa un'opinione come per scegliere la squadra che resterà in sci a napoli se vince la juve va a 17 l'inter a 17 quindi resterebbero tutte e due in scia o meglio forse nessuna delle due se il napoli vince perché anche l'inter rischia un meno 10 però questa cosa che si sfidano per scegliere chi resta in scia magari più l'inter che se vince può restare in scia allegri i loro favoriti inzaghi per noi è la partita della svolta e questa è anche la terza prima pagina italiana andiamo a vedere anche velocemente in spagna tra barcellona e real madrid un nuovo classico benzemà ma anche depai e anche i giovani ansufati contro vinicius quindi il nuovo classico perché memphis benzemà duello di goleadores ansufati e vinicius poi rivoluzionano questa partita barcellona real madrid è una nuova era senza messi abbiamo detto e sergio ramos anche marca sempre da madrid sottolinea come è una nuova era anche qui ansufati vinicius depai alaba viene scelto il gran duello del futbolo spagnolo tira del talento joveni novedades quindi novità talento giovani cumann jugamos e in casa in ottengo miedo quindi dice che si gioca in casa non ho paura ancelotti si notienes miedo te infrantas al leon pensando che è su un gatto quindi se non hai paura va a finire che vai ad affrontare un leone come se fosse un gatto e bisogna invece avere il giusto timore molto divertente questo scambio di battute si va a barcellona e cambia un po qua sono molto più di parte senza ritegno classico sin miedo quindi le parole di cumann senza paura ad affrontare con il numero di e il nuovo 10 ansufati con vinicius dall'altra parte senza messi e ramos anche qui poi c'è anche l'atletico madrid che affronta la capolista al momento real sociedad con grisman luiz suarez e joe felix contro i capolisti ma vedete qui sport non ha proprio timore di titolare proprio con una neutralità massima forza barca forza barca e quindi forza barcellona loro sanno che si tifa anche classico para sognare per sognare l'assemblea a prueba la finanziazione delle spy barca quindi il finanziamento per il nuovo stadio con le varie discordanze che c'erano state si può fare non si può fare alla fine la porta può andare avanti sul discorso nuovo stadio e continua quindi a programmare la ripresa del club anche in francia abbiamo detto c'è la grande partita così come in inghilterra united contro liverpool alle 17 30 e poi il classico e i virtuosi ecco qua paillet guendousi messi e mbappé messi ma per l'equipe un classic quindi grande partita terzi sono saliti l'om olympique marsiglia e quindi si annuncia un una partita eccezionale una sfida eccezionale come soprattutto sarà questo inter juventus speriamo bene forza ragazzi incrociamo le dita come ha scritto la curva nord tutti con la sciarpa al collo se andate allo stadio 57 mila è il momento di spingere i ragazzi ovviamente in zaghi ha detto non è che dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con lo sheriff perché di marco in avanti gli esterni in avanti i centrocampisti in avanti l'avversario è diverso bisognerà avere maggiore prudenza più equilibrio compattezza ma per dirla alla barcellona maniera senza paura e dimostrare che l'inter è più forte della juventus ha un centrocampo superiore loro anche forse lo sanno ma vogliono dimostrare di poter essere ancora competitivi per i massimi livelli e quindi sarà una partita come sempre difficile tesa ma l'inter tante volte spesso più volte sicuramente della juventus ha vinto a san siro e nel match dei program ha parlato cruz uno che sapeva come si fa speriamo che possa essere gecko barella bastoni vidal che sono stati i protagonisti l'anno scorso o magari anche un nuovo protagonista ad andare a vincere contro quelli là nel derby d'italia la partita almeno per quanto mi riguarda più sentita me la potrò godere da san siro e quindi video pagelle da san siro non mancate dopo mezzanotte dopo le conferenze per il piccolo commento e il riassunto del post partita ma soprattutto con i voti e speriamo speriamo con i punti che in questo caso sono pesantissimi per non far scappare napoli che avrà giocato a roma alle 18 e milan che ha già vinto un caro saluto a michele borelli sempre forza inter iscrivetevi al canale fatelo conoscere ai vostri amici interisti poi lunedì black and blue monday evening con le vostre telefonate già da lunedì eccezionalmente questa settimana anche lunedì dalle 18 ciao ciao buona domenica ciao